...lo spunto per passarlo e credo che oggi abbia vinto il più forte. Hai detto bene però, era la prima volata, ci sarebbe un secondo posto, come è andato lo sprint? Sicuramente prima tappa del giro, tutti con molte energie, è stata una volata ovviamente caotica. Ho trovato la rotta giusta, ma mi è mancato lo spunto per passarlo e credo che oggi abbia vinto il più forte. Hai detto bene, però era la prima volata, ci saranno anche tappe più adatte a te, tu ci sei? Sì, ci sono, sto bene, dopo le classiche non ho più corso, quindi devo ritrovare un buon ritmo. Diciamo che oggi non era proprio la mia tappa preferita, però...